Un'indagine partita dal territorio e sviluppata grazie alla cooperazione internazionale. I carabinieri del comando provinciale, a conclusione delle indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Todor Giovanni Bombardieri, hanno dato esecuzione in Francia e in Germania a una misura cautelare in carcere nei confronti di quattro cittadini affegani, ritenuti a vario titolo responsabili di favoreggiamento pluriaggravato dell'immigrazione clandestina e di esercizio abusivo dell'intermediazione finanziaria. Sono stati sequestrati inoltre il veicolo utilizzato per il trasporto dei migranti e il denaro profitto del reato. L'indagine è stata sviluppata avvolendosi dai canali della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a Eurojust, sul lato giudiziario che ha coordinato l'esecuzione di diversi ordini di indagini europei, comprese attività intercettive all'estero, nonché le erogatorie internazionali, così come in maniera omologa per lo scambio di polizia. Europol ha fornito apporto di analisi e contributo delle banche dati in uso all'ufficio europeo di polizia. A collaborare con i carabinieri reggini in Germania, il direttorato per la rotta del crimine della Bandesposay e poi la polizia di frontiera di Bordeaux e Marsiglia. E il 2020, quando a seguito dell'inalzamento del numero degli sbarchi dei migranti registrato sul litorale reggino, in particolare sulla costa ionica e la loquide nel dettaglio, i carabinieri hanno avviato una manovra informativa finalizzata a verificare gli elementi di convergenza di questa fenomenologia, attesa alla probabile sussistenza di una rete di trafficanti di esseri umani. Così, l'attenzione dell'arma attraverso le stazioni territoriali si è concentrata sui movimenti dei migranti successivi allo sbarco, quando, in ragione dall'ora vigente emergenza epidemiologica, venivano posti in isolamento fiduciario presso i centri di contenimento sanitario temporaneo. È proprio dall'osservazione sul campo che i militari hanno notato un quarantenne affegano residente in Francia, del quale viene registrata la presenza a bordo di un furgone con targa transalpina a Bova Marina. Le indagini avviate sotto il coordinamento della DDA hanno consentito di registrare i movimenti dell'affegano, che dopo aver fatto salire a bordo dieci connazionali, percorrere l'intero territorio nazionale facendo tappe in Abruzzo, in Lombardia e in Liguria e uscendo poi successivamente al territorio nazionale dal valico del Fregius. A seguire, lo straniero varca più volte nuovamente il confine, non dopo essere stato controllato dai carabinieri di Supa prima di fare ingresso nel traforo del Fregius, circostanza questa che ha cristallizzato in maniera univoca l'intenzione del conducente di lasciare l'Italia per fare accesso in Francia. Nel corso del controllo i militari avevano avuto modo di constatare come l'indagato fosse l'unico occupante del mezzo, anche se da una successiva ispezione veniva accertata la presenza su sedili posteriori di alcuni bagagli, dentro i quali venivano rinvenuti pannolini per bambini ed altri vestiti chiaramente non appartenenti a lui. Inoltre, era stata censita la presenza di un vano creato ad hoc nella parte posteriore del mezzo per nascondere le persone. Proprio queste circostanze con cui i migranti hanno raggiunto la destinazione agognata ha portato la procura di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Bombardieri, a contestare le aggramanti confermate dal provvedimento del GIP di aver esposto le persone trasportate a pericolo per la loro vita. E' quella di aver commesso anche il fatto sottoponendo i trasportati a trattamenti inumano ed anche degradante, nascondendoli nel furgone. A questo punto in ragione di una segnalazione inserita nella banca data di Schengen viene tratto in arresto dalla polizia francese nel lato transalpino della località di Frontiera, sorpreso a balicare il confine con sei connezionali clandestini. Poi le indagini sono proseguite con l'ausilio di Eurojust ed Europol per ricostruire i contatti ulteriori dai componenti della catena di trasbordo dei migranti e hanno consentito di definire una filiera criminale di immigrazione clandestina localizzata in Turchia, in Italia, in Francia e in Germania. Sono stati ricostruiti dettagliatamente i ruoli degli altri soggetti coinvolti, tutti di origine afghana. Di fatto il primo è questo ampiamente detto, è il promotore, è organizzatore e anche autista, un secondo uomo con il ruolo di intermediario per il passer e i parenti dei trasportati. Un sodale localizzato a Marsiglia preposto all'accoglienza dei migranti e poi ancora un altro soggetto stanziale in Germania individuato quale terminale delle somme erogate a titolo di compenso per il viaggio. E poi è stato anche individuato un canale finanziario per le transazioni economiche che utilizza il metodo informale noto come AWALA. Sempre secondo le indagini è emerso che la somma versata al destinatario nell'odierne indagine quantificata a 1.500 euro per ogni immigrante per il servizio di trasporto sarà poi successivamente rimborsata dal primo al secondo intermediario con tempi e mezzi variabili secondo le circostanze. Quattro arresti in Francia e in Germania con cui i carabinieri di Reggio Calabria questa notte hanno posto fine a un'organizzazione dedita al trasporto di migranti in tutta Europa. L'operazione è stata supportata per la parte internazionale da Eurojust ed Eurocall e in Francia in Germania siamo stati collaborati dalle rispettive forze di polizia. I migranti una volta giunti sulle coste Regine attraverso imbarcazioni di fortuna sono stati collocati durante l'emergenza epidemiologica all'interno dei centri di contenimento sanitario. Fondamentale per le investigazioni è stato individuare il metodo attraverso cui i migranti pagavano il prezzo del loro trasporto. 1500 Euro attraverso il metodo della Vala, metodo tradizionale nel mondo arabo che schermava attraverso una rete informale di broker la possibilità di censire il passaggio di denaro.